La vittoria è importante perché è una squadra molto forte, secondo me è una squadra che dava qui forse le ultime, non le ultime, possono ancora entrare nei playoff però era una prova del 9 per loro per poter fare un passo nell'entrata dei playoff, l'abbiamo superata, l'abbiamo superata stando avanti praticamente sempre, non so se fosse Pricicum non ho l'idea, se qualche volta siamo stati sotto però siamo sempre stati avanti, abbiamo sempre dato l'impressione di poter vincere la partita, l'abbiamo fatto, non stavamo benissimo, non stiamo ancora benissimo, avevamo qualche acciacco di Marcus Green, di Riccardo Cervi e quindi aver vinto una partita così ci dà sicuramente due punti che ci mettono più di un piede forse dentro il playoff e poi ci dà anche un bel aspetto morale e mentale perché vincere quando non stai bene vuol dire che ci sei e l'altra cosa, non posso negare che è molto bello sentirsi abbracciati dalla gente, dal pubblico che ci ha incitato, nei momenti di difficoltà ha alzato la voce per darci il sostegno e credo che questa squadra per adesso se lo meriti. Ecco, momentaneamente anche terzo posto in classifica, come detto alla fisicità, un certo brillantissima, questa fase per i tanti match si risponde con la mentalità di squadra. Beh, dobbiamo capire che la rotazione fa parte del gioco, che bisogna giocare ogni tanto qualche minuto in meno per dare spazio ad un altro più fresco e dobbiamo capire che quando arriva è un momento importante, bisogna avere la testa per poterla vincere, questo è quello che più ci, è quello che più noi vogliamo, cerco di dare e di trasmettere alla squadra quotidianamente, per fortuna ho in squadra magari non tutti ma parecchi giocatori con grande esperienza e con grande onestà intellettuale che sanno trascinare in gruppo sotto questo aspetto. E poi anche ritrovare Cantù da ex, da ex profeta in patria e poi soprattutto anche per alcuni giocatori, tanti ex. Beh, per me è inutile che lo nasconda, per me Cantù non è mai partita come le altre, Cantù è casa mia, Cantù è quella che mi ha attirato grande o piccolo, visto la mia altezza, però è quella che mi ha insegnato, mi ha dato regole di vita, mi ha dato la possibilità di poter difendere quei colori, un senso di appartenenza molto forte e quindi per me rimane sempre qualche cosa. Poi si è professionisti e ci si gioca contro, però devo dire la verità mi ha fatto molto piacere che il pubblico di Avellino mi abbia risultato grande ovazione, però mi ha fatto anche molto piacere che i tifosi Canturini, appena sono entrato in campo, mi abbiano salutato con affetto, per me è una dimostrazione di amore, di grande mentalità e di grande affetto nei loro confronti, io fondamentalmente sono cresciuto in mezzo a quella curva e quindi insomma penso che sia una cosa che va al di là dell'aspetto sportivo e va al di là dell'aspetto professionale. Queste due domande, come si fa a passare dalla sconfitta di Caserta sopra di 20 punti al primo tempo, a 9 vittorie consecutive e la finale di Coppa? No, tutti dicono questa cosa, che la partita di Caserta ci ha insegnato qualche cosa, io non sono tanto di questa idea, io credo che il lavoro c'era già prima, l'arrivo di Marquis Green e di Gioraga hanno messo due giocatori nel proprio ruolo ma soprattutto hanno fatto giocare gli altri giocatori nel loro ruolo ed è cresciuta la qualità, l'intensità degli allenamenti dell'esserci, poi è chiaro che noi non possiamo neanche pensare che vinceremo sempre, vinciamo sempre, arriveranno anche delle sconfitte, questo è chiaro, però credo che sia frutto del lavoro, sia frutto non di una casualità o di un episodio che ci ha voltato la testa, io non credo a questa cosa, ecco credo che forse, ecco la cosa che penso realmente, che forse prima magari le partite punto a punto le perdavamo con un po' di insicurezza, adesso abbiamo una determinazione e una ferocia nei momenti importanti in cui raramente sbagliamo e molte volte queste fanno la differenza, è una partita quella di oggi che comunque è stata infarcita di tanti tiri non entrati, magari anche ben presi o qualche situazione difficile che abbiamo affrontato. Grazie a tutti!